Affrontiamo una partita veramente difficile, una squadra che di là che il Teramo non ha mai vinto, ma una squadra che ancora non ha mai perso in casa, quindi diciamo che dobbiamo essere molto bravi a tirar fuori una prestazione importante, è una squadra molto organizzata, ha un buon tecnico, giovani molto di prospettiva, strutturati fisicamente, e poi c'è un giocatore che gli fa la differenza che è Grassi, quindi grande attenzione a questi particolari, però penso che noi come Teramo abbiamo anche delle buone qualità per poter fare bene. C'è una raccomandazione particolare a tutta la squadra di non concedere spazi all'avversario, la cosa su cui do attenzione in questo momento qui è sicuramente la preparazione della partita e soprattutto a tirar fuori la prestazione importante. I calcoli e oppure la classifica mi piace guardarla a fine anno. Siamo abbastanza soddisfatti perché personalmente, ma anche penso a nome della squadra, abbiamo un pochettino qualche rammarico, per esempio soprattutto i problemi fisici che abbiamo avuto, che ci ha tenuto magari fuori squadra a diversi giocatori importanti e questo ci ha condizionato un pochettino in alcune partite, però dobbiamo essere anche consapevoli del campionato che stiamo facendo e dei risultati ottenuti. In questo momento qua Buonaiuto è un giocatore del Teramo e quindi deve dare tutto quello che ha per cercare di dare una mano a questa squadra e speriamo che lo fanno nel miglior modo possibile. Sono giocatori diversi di Matteo, è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, ho più un jolly, però vediamo. Adesso su questi discorsi non entro perché sono discorsi che non mi portano frutti per domenica. Io sono concentrato alla partita di Pondedera e la stessa cosa deve fare la squadra e quindi questi sono discorsi che poi si avverano bene, altrimenti pazienza.